...un minuto, sento, sto a spavare 5.8.4, però dovrebbe essere una cosa veloce, perché... ...sono tornato all'Agra dieci anni dopo il forte sisma che ha distrutto la città. Sono andato a pregare nell'ambasinita di Piole Maggio, come facevo ai tempi dell'università quando non tornavamo in Teodoisio per il fine settimana. Ho passeggiato per le strade del centro e in cui sono tornato nel via Luigi Sturzo, dove abitavo l'anno. Il mio palazzo quella notte si spriciolò riducendosi a un tumulo di macerie. Per fortuna i molti non dormivano in casa dopo gli allarmi dati dal comune e dalla protezione civile durante la settimana precedente. E noi studenti eravamo già a casa per le vacanze di Pasqua. Anche se l'Agra non mi piaceva molto, vedere in tv le immagini catastrofiche dei luoghi che avevo vissuto con i miei compagni in università e con la mia fidanzata, mi fece mai. Avevo molti ricordi. A settembre mi sono trasferito all'Università dell'Acqua perché viaggiare nei giorni da basto era troppo stancante e nel 2012 mi sono laureato. Ho trovato subito lavoro, anche se all'inizio la retrecuzione non era eccezionale e lavoravo per altri. Ma mi sarei trovato in pochi anni a dirigere gantie di miei. Nonostante il lavoro ho continuato impegnato per il mio paese, l'Odoriziana, il Comitato Feste e anche l'amministrazione comunale. Mia madre è fiera di me. I suoi tanti sacrifici fatti per farmi studiare sono finalmente state ripagate. Il 14 settembre 2014 mi sono sposato, Don Riccola ha celebrato il mio matrimonio nel santuario della Madonna delle Grazie. Da due anni sono diventato papà e il nico è la mia giove. La sera hanno appena l'ora di tornare a casa per giocare con lui. Tra qualche mese arriverà anche una bambina. Ma non sappiamo ancora come chiamarla. Questa è la storia che avrei voluto raccontarvi. Questa è la vita che avrei desiderato per me e per la mia famiglia. Questo è quello per cui ho sempre pregato. Purtroppo quella che fu l'ultima notte su questa terra. Un genio di Maurizio Natale. Grazie.